Una risoluzione che è stata presentata il 17 luglio e che oggi è arrivata in prima commissione consigliare che riguarda l'ex fea che i pescaresi conoscono bene perché era il punto di arrivo della ferrovia elettrica che congiungeva Pescara, Penne e Loreto, quindi all'introterra. Dal momento in cui è stata dismessa questo luogo è diventato un luogo del degrado, spesso assalito anche da barboni senza tetto e essendo presente sul lungomare nord di Pescara naturalmente aspettava una riqualificazione da tantissimo tempo. L'amministrazione regionale di centrosinistra a guida di Alfonso ci ha lavorato moltissimo fin dal 2015 con un primo bando di manifestazione di interesse nel 2016 e poi nel 2017 con una concessione per la valorizzazione terminata il 5 di ottobre del 2018 con l'affidamento a un consorzio di cooperative di Reggio Emilia e l'accordo è stato firmato il 2 di aprile del 2019. Due giorni dopo, il 4 di aprile del 2019, arrivava la progettazione in Regione Abruzzo, progettazione che adesso deve essere presentata al Comune di Pescara per il permesso a costruire e che ad oggi non è stato ancora fatto. Il permesso a costruire ad oggi, nonostante siano trascorsi i vari mesi, non è stato ancora presentato e speriamo insomma con questa risoluzione di accelerare un pochino le iniziative del settore patrimonio della Regione Abruzzo e anche del Comune di Pescara. Perché lo facciamo? Perché naturalmente ci teniamo molto alla riqualificazione di quel posto del nostro lungomare, perché crediamo moltissimo nell'incubatore culturale che verrà nella vecchia stazioncina FEA che mantiene la sagoma anche ai fini storici ed architettonici, perché crediamo molto all'Accademia del Gusto che deve nascere lì dietro, alla piazza che nascerà di 1700 metri quadri e a un nuovo parcheggio sopraelevato. Oggi però la Commissione si è espressa in senso negativo verso questa risoluzione votata soltanto dai consiglieri del centro-sinistra, sostenendo che la Regione abbia già presentato il permesso a costruire, cosa che non è assolutamente vera, ma l'intento appunto era quello di impulso e noi crediamo che questo impulso oggi sia più forte di prima.